ciao a tutti del Ernesto 2.0 oggi siamo qui al ristorante in chiostro dallo chef Terry Giacomello allora lo chef Terry Giacomello l'abbiamo conosciuto su Masterchef Italia in una puntata e da lì abbiamo iniziato a seguirlo su Facebook Instagram per i piatti innovativi molto particolari ispirati in tutto il mondo e molto colorati esatto usa ingredienti da tutto il mondo e oggi lo vedremo con la degustazione a dopo ciao via molto bella ingenzante per mare profumato una piccola lista lì vediamo di benvenuto partendo al basso troverete questa lamina di cacao con cranfresh e avocado a seguire una sfera di caprino con pasta cataifi centro tavola invece passiamo le chipsa l'aceto balsamico e sedano l'acqua concludiamo adesso con due pietri di tappiocca ferrovanello e ingerli e sederite nero c'è un ordine particolare ma raccomandiamo anche di partire dal cioccolato proseguiamo con la parte calda del finger davanti a voi una crocchetta di cavolfiore con mandarino scusate con umeboshi e anguilla fumicata si consiglia di fare un boccone unico dato che l'interno è liquido e può essere anche caldo quindi un attimino d'attenzione centralmente invece un mini con di sesamo con una spuma di bacon e sorbo di montagna in un attimo insieme poi iniziamo con le operazioni partendo dall'anima e l'osafagola l'osafago della gallina che viene fritta e ricoperta da papplica dolce a completare un formaggio frullano ad asino a seguire la mumia e la zampa della gallina anch'essa fritta sfruttata e soffiata ricoperta da agiatura lo kombu e una salsa barbe q si consiglia di cominciare dall'osafago che serve la prima portata esatto e a seguire con la zampa nella molds grazie ora iniziamo con la fritte della spezia indiana utilizzando il terzo opio a completare lo siedi suripando il fatto di gigane e ricerli utili per i nostri panni, vedete, il cretto è stato in casa, il grasso rancio e il prosciutto, che vi consigliamo dentro le sopra piccole dopo, quindi possiamo buttarsi il burro, ok, sfogliatelle al burro, focaccia con olio evo, polviglio cracker e i grissini per concludere, lisci al burro e interessati al mais. Vai, spalma su tutto il grasso del prosciutto. Amo, stai esagerando però. Ma scusa. Vediamo. Com'è questo grasso del prosciutto. Buono. Andà burro. Sì, buono. Amore com'è il nettare di prosciutto. Buono. Buono? Davanti a voi invece proseguiamo con il Kraken di Ostie, è farcito da una fuma di patate affumicata e in superficie il cotone di faraona. visitiamo in dolce asiatica il tè dolce fermentato, ma invece del tè troverete il melone molto vano, in aggiunta già di culatello e bacche di pepe sancio che li troverete in superficie. bisogna riprendere tutti gli ingredienti e le bacche a maniera di masticarle. l'altro che vi danno tutto di affumato così minerale. grazie. 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 Yeah. Wow. Allora ragazzi andiamo, faccio vedere meglio, c'è questo chicco di pepe asiatico, vedete? Non si vede, è da mangiare insieme, una volta mangiato da un sapore minerale quasi di ostriche. Ti trovi una cosa dolce che ti dà un impatto inizio forte, poi mordi il pepe e ti esce questo minerale che ti sembrano ostriche. A me viene in mente il mare e le ostriche. Buonissimo. Grazie. Buonissimo. 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 Noi possibiamo quella cannappe di coniglio, coniglio grigio, coniglio grigio, coniglio coniglio torinese. Qui troveremo l'impatto del fegato, il cervello fritto e le dolci di melone. E' buon, torinese anche il suo, a completare. Ok, grazie. Su questo piatto mi vorrei fermare un attimo, perché mi ha davvero commosso. Mi sono messo a piangere e mi dispiace non avere il video, ma era un momento per me veramente intimo. Questo piatto mi ha riportato da mia nonna in cucina, con cui ho imparato a cucinare, con cui preparavo spesso polente e coniglio. Andavo matto per il cervello e per il fegato, le parti che mia nonna mi aveva fatto assaggiare. E mai avrei pensato di trovarlo in un piatto da una stella Michelin. Grazie Chef Terry Giacomello per le emozioni e le vibrazioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 diciamo una versione concettuale del piatto tradizionale, dato che lo chef si diverte a giocare con le sensazioni gustofattive andando a ricreare quelle del piatto tradizionale, quindi troverete un'acqua termale davanti a voi, un'acqua sicurea che va a riprendere le note dell'uovo, poi nel centro ho spruzzato un'essenza al tartufo bianco che andrà annusata mentre si sorseggia l'acqua, è passato una decina di volte, è recuperato poi dall'altozio, viene attaccato poi da un ceppone abbia troppo forti la stessa anno fa del gorgonzola, è dimenticato circa una settimana, viene poi svuotato e all'interno troverete una meringa all'italiana aromatizzata al limone nero iraniano, si mangia tutto anche la buccia e limone ammuffito, in realtà si chiama piatto si è dimenticato, si è dimenticato, si è dimenticato, si è dimenticato del piatto, vediamo, assaggialo, il profumo del limone tipico che lascia in frigo, che tutti i limoni che lascia in frigo fossero così, potrei venderli fuori casa, buonissimo e quindi concludiamo con terribile o terribile in base a come è andata l'esperienza, diciamo il concetto di questo piatto è che lui vuole mettere la faccia nel suo menu degustazione, vuole firmare e lo fa stampandola su una foglia di pasta di zucchero con alla base i suoi quattro gusti preferiti che sono pera, cocco, cioccolato e dulce e passion fruit, ci hai sentito il menù, i gusti sono fenomenanti, grazie, grazie, ecco siamo arrivati al nostro ultimo piatto, terribile, un'esperienza sublime, lo chef veramente unico con concetti di cucina che non ci saremmo mai aspettati di mangiare, grazie allo chef e al suo staff. A presto!